Io conosco Filippo durante la promozione del mio progetto discografico, quando il mio ufficio stampa mi propone di fare della promozione non convenzionale, cioè di partecipare a un podcast dal nome Monologato. Io vado a curiosare su iTunes mi sembra o su Spotify dove era Monologato e non capisco se questa persona che fa i podcast ci è o ci fa, cioè non si capisce se ti prende per il culo o se invece quello che sta dicendo lo pensa veramente. Mi colpisce, comincio ad ascoltarne un po' e poi comincio anche a cercare in altri podcast che Filippo faceva, perciò il podcast su Sampa, su San Patrignano, il podcast sulla banda della Magliana e comincio a gasarmi, comincio a piacermi questo modo di raccontare la storia. Interessante, fatto sicuramente di uno script, di una sceneggiatura scritta prima e poi di questa interpretazione quasi attoriale che ora capisco ascoltando i podcast non musicali da dove arriva quell'impostazione vocale che quando critica la musica sembra quasi un po' esagerata. Insomma, mi ha passione e poi registro il primo podcast con lui che tra l'altro ha anche un problema tecnico che io faccio il professionista e un po' anche arrogantello dicendo non ti preoccupare registro tutto io, la tua voce, la mia voce, ho un sistema di streaming, io streamo su Twitch e poi tipo registro solo, non mi ricordo più la mia voce, non registro la sua. Faccio un errore tecnico tremendo e perciò lui così gentile rifà praticamente tutte le sue voci da fuoricampo successivamente e fa uscire il podcast così. Cioè, diciamo, la nostra conversazione nel suo podcast. Dopodiché io comunque mi gaso per questa cosa di parlare in un podcast, mi gaso per questa cosa di parlare in un podcast e chiedo, cioè lo chiamo, gli scrivo email e dico senti ma perché non facciamo qualcos'altro, perché non ci mettiamo qualcosa insieme. E dopo neanche quattro giorni che gli dico questa cosa, lui arriva subito con un'idea che poi viene sviluppata ulteriormente ed è questa cosa che stiamo facendo insieme, The Lyrics Show. Infatti ho letto un articolo che si reintegra proprio nel mondo dei giovani e del mondo del lavoro, un articolo di Matteo Lancini che dice Giovani, narcisisti e preoccupati sono cresciuti in un ideale di bellezza e di popolarità alimentato da media e famiglie che rischia di sfaldarsi al primo fallimento, ma i ragazzi nati a cavallo del nuovo millennio possono dare molto al mondo del lavoro. Tu che ne pensi di questo discorso? Anche soprattutto del discorso che al minimo errore poi c'è il fallimento. Questo, guarda, dove vivo io in California secondo me è una delle dimostrazioni, cioè uno dei punti salienti e problematici di quella società. Una società che abitua, per quello che ho vissuto io, il figlio a convincere il figlio che non sbaglia mai e che è il più bravo di tutti sempre perché comunque può essere creativo, che di fronte a lui c'è qualsiasi possibilità, che non è che perché ha preso un voto peggiore potrà sempre migliorare, che da un lato è bellissimo, cioè non crea dei limiti o comunque delle, come posso dire, non crea dei sensi di colpa. Però al primo errore, vero, nella vita, mi chiedo io spesso, con questo modo di tirare su un figlio, nel mondo del lavoro, che per carità in America funziona molto bene se fai un'università è facilissimo e performi bene come quasi tutti quelli che si possono poi permettere di andare a un'università che magari costa diverse decine di migliaia di dollari all'anno e all'anno prima di finire l'università hai già molte proposte di lavoro, perciò è un sistema che veramente funziona, funziona, è vero, spendi tantissimo, poi prendi anche le borse di studio, però ce ne sono tantissime lì, ci sono borse di studio parziali, per lo sport, totali, perciò ci sono mille possibilità, però dico, al primo vero problema che ci può essere, anche in una società quasi perfetta come quella americana, ad esempio c'è un altro problema, il problema degli homeless, come lo risolvi, è un casino, Los Angeles ci sono per deragliare e girare in un'altra direzione, però non riescono a risolvere da cent'anni, ogni anno diventa sempre peggio, 95.000 homeless nella città di Los Angeles, cioè un'intera città dentro la città, perciò mi dico, per tornare, un problema come trovare un ostacolo o qualcosa che non funziona veramente nella tua vita, quando hai avuto per vent'anni la concezione che ti è stato insegnato, che tu puoi fare tutto e puoi raggiungere qualsiasi cosa, dipende se dalla tua forza e di volontà e di quanto ti impegni a studiare e a fare, magari io pensando alla mia infanzia, infanzia italiana, bellissima, non avevo, i miei insegnanti non mi dicevano puoi fare tutto, no, infatti, infatti, guarda la matematica, no, la matematica forse sì, però c'è altre cose mi dicevano è meglio che non le fai, chiaramente, tipo il greco, non lo so, è meglio che non vuoi insegnare il greco. E tu come educatore, anche padre, a questo argomento sul mondo del lavoro, come ti muoveresti? Perché sai, c'è l'errore magari che molti commettono o di pompare troppo il figlio, oppure al contrario, di dirgli dove vai, cioè perché devi stare sul sicuro. È un casino, è un casino, cioè come fai sbagli, però devi provarci, se no sbagli di più ancora. Cioè, come è l'unico vero errore che uno può fare con, adesso stiamo deragliando veramente sulla generalizzazione più totale, però dico, l'errore vero è non provarci, ecco, ci devi provare, no, con l'educazione, provare, andare in una direzione che tu pensi sia più giusta. Poi ripeto, come fai sbagli. Certo, certo. Ho notato che c'è in questo periodo una forte ammirazione da parte delle nuove generazioni, fascino, verso il mondo anni 90, 2000, così come, diciamo, una certa poetica continua a fare effetto su giovani e giovanissimi. Siamo comunque in un'epoca in cui, forse nella prima epoca, in cui la poesia, intesa proprio come verso che poi viene messo in vendita, non ha più valore sulla carta in pratica, però appunto resta l'impatto. Ecco, io proprio da questo concetto volevo partire con Lyric Show, un format improntato a dare un peso alla parola, perché una frase che fa un certo effetto colpisce sempre i ragazzi più giovani anche, no? E tu lavorando appunto con tanti giovani, come ho già detto, da producer, quando devi comunque sentire un ragazzo, no? Quali sono i punti che ti convincono di più, che poi dici, ok, ci punto su questa persona? Per tanto tempo è stata esclusivamente la canzone. Da due anni ho un'etichetta Canova Record distribuita da Universal e con il mio compagno di viaggio che è Vincenzo Colella, il mio A&R, ci siamo sempre concentrati sulle canzoni. Ora ci stiamo rendendo, per carità, appunto, niente di sbagliato, sono fondamentali, le canzoni rimarranno sempre il centro di un progetto discografico, di un progetto artistico. Ci rendiamo conto, proprio anche riguardo i discorsi che hai fatto tu prima, è fondamentale collegare queste canzoni a un'immagine e soprattutto a un modo di sfruttare i social media da parte di un artista, perché l'artista che una volta cercava di farsi notare attraverso dei concerti, attraverso continue visite a case discografica, A&R per farsi ascoltare, per mandare o spedire via posta le cassette e le cose. Oggi tutto quel tipo di hustling, quel tipo di forza, di voglia di sfondare, diventa, sfocia alla fine nel tuo profilo Instagram in quanto bravo sei nel raccontare una storia, se c'è una narrativa, una narrazione all'interno, uno storytelling o semplicemente se invece vuoi colpire solo a livello estetico o colpire a livello di, perché porti magari un tipo di musica che ha in qualche modo un seme di novità anche a livello sonoro intendo dire, lo abbini anche a un qualcosa di novità a livello estetico. Però ecco, perciò secondo me sono sempre attento alla canzone, però sono anche attento a come l'artista cerca di voler veicolare quella canzone in qualche modo attraverso il suo profilo, che sia, ripeto, Instagram o TikTok o quello che sia. Che è comunque una forma d'arte, il marketing. Totalmente. L'ho detto pure recentemente Fedez, mi pare. No, ma infatti... Maestro di marketing, sì. Assolutamente, assolutamente. Ma a me quello che diciamo più mi spezza il cuore sull'argomento è quei tanti ragazzi che magari 19 anni, finiscono la scuola, si trovano il primo lavoro, si abituano a quello standard, comunque anche che guadagni 1000 euro al mese, comunque ti abitui, no? Poi magari ti fa e ti rateizzi la macchina e ti ritrovi a 40 anni che dici non ci ho mai provato davvero, pieno di rimpianti e di rimorsi. Quando invece c'è una lunga gavetta da fare, soprattutto in questo settore, ti senti di poter dire qualcosa? Ma io però, è da dieci anni che vivo in una società veramente diversa, dove questo concetto proprio non esiste, però non è che non lo conosco, fino a 39 anni ho vissuto qui, perciò me lo ricordo bene. Sì, io preferisco quella società americana come concetto, dove comunque tutti ci provano, tutti. Che poi provarci, non mica vuol dire voler diventare Presidente della Repubblica, vuol dire provarci nell'ambito dove non si danno mai i pervinti, fanno piuttosto quattro lavori, capito? Tre lavori, perciò... E non c'è mai il... nessuno si lamenta mai, ma mai. Cioè non c'è il concetto di lamentarsi, non esiste. È bella questa cosa che dici perché offre proprio un'altra prospettiva. Io che vengo dalla provincia, questa prospettiva che mostri tu, che da dieci anni magari hai vissuto meno. Invece è una cosa proprio a macchia d'olio. Io vengo dalla provincia Veneta, però che comunque anche lì è diverso, no? Il Veneto è uno che lavora, è uno che comunque abbassa la testa, un po' ignorantello. Il Veneto non vuole sapere niente. Va, capito? Va per la sua strada. Devo dirti che ho trovato delle somiglianze in California con il Veneto in questo... Comunque io quando ero qui all'inizio inizio e venivo a Milano con la mia pandina per far sentire le mie prime produzioni, le mie prime canzoni, comunque avevo quello spirito lì. No, cioè vado, mi dicono di no, ritorno indietro. Certo, ci rimanevo male, non è che ero Highlander, però non è che mi lamentavo. Sì, dentro di me ovviamente mi lamentavo nella mia testa, però non è che davo voce a questo lamento. Perché il Veneto è un po' così, no? Uno che sbatte la testa, fa lavoro, fa l'aziendina e costruisce. No, ma adesso ci arriviamo tutto un po' sulla tua carriera. Adesso volevo continuare questo discorso del riscaldamento sociale tra di noi perché insomma ci sono tanti discorsi che secondo me sono veramente interessanti ed è importante sviscerarli con te, come il fatto, leggevo sempre, che il primo vero segnale d'allarme è l'abbandono delle scuole da parte dei giovani. Giustamente a volte direi perché un ragazzo comunque prende una nota perché si muove. Cioè che dovrebbe fare? Bennato diceva, facciamo la prima citazione di questo format, «Venderò il mio diploma ai maestri del progresso per costruire un nuovo automa». Cioè per me la scuola dovrebbe cambiare mentalità, costruire i leader di domani, non i servi del sistema capaci di tacere e di farsi andare bene qualunque cosa. Cioè non a caso le grandi personalità hanno sempre avuto problemi con la scuola, non so tu, io ne ho avuti tanti. Non si può invece arrivare a far sì che certe menti vengano glorificate e tenute alte dal sistema scolastico. Non si può iniziare a fare un percorso di laboratori, di cinema, di teatro, di musica fatta bene, arte in generale, così che un ragazzo si esprima già lì. Cioè cosa dovrebbe cambiare secondo te nel sistema scolastico? Prima di tutto gli stipendi. È ovvio, no? Perché non è difficile, non è facile ovviamente, ma non è difficile. Se tu tieni all'educazione deve esserci un sistema di salari e di alta specializzazione dove se di colpo un insegnante invece di guadagnare, non ho la minima idea, mettiamo 2.000, 1.500 euro al mese, ne guadagna 4.000, non dico 10.000, ma 4.000 di colpo... È più motivato. Non è solo motivato, vai anche cercare della gente più specializzata, più che ha voglia di costruire anche un percorso educativo diverso per i figli, per i studenti. È più facile poterlo costruire, secondo me, da lì. Si andrebbe anche un po' a ribaltare quel discorso perché molti dicono vabbè che studio fa a lettere per fare il professore? Se il professore diventa uno che guadagna 4.000 euro al mese, ridiamo valore un attimo a un ruolo importantissimo. Non perché voglia sempre adesso fare il paragone, penso all'America, dico, è comunque, non è che sia messo meglio, perché allora in America c'è molto di più la scuola privata, perciò la scuola privata ha diversi gradi, va, dico economici, perciò sono anche scuole private che non costano poi così tanto e ci sono le scuole private che costano tantissimo. Però ecco, quasi, diciamo, nelle città importanti, perciò nelle grandi capitali dove ci sono più soldi, perché nel mezzo del niente in Arkansas o in Oklahoma, allora penso che tutti vadano, cioè ci sono le scuole private anche lì, ma tutti generalmente, il 90% va alla pubblica. In città come Los Angeles, New York, Chicago, eccetera, magari già un 50% va alla privata, no? E perciò lì cambia tutto, cioè ci sono dei sistemi educativi che sono veramente avveniristici rispetto alla scuola pubblica. Io lo vedo con mio figlio, insomma, è bello, eh? Cioè avere dei laboratori di ogni cosa, della musica al coding, già la programmazione a otto anni, una seconda lingua che in questo caso lo spagnolo ma fanno anche già il cinese, ha già otto anni, anche a sei anni cominciano col cinese. Anche per capire più te stesso, no? Sì, 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 non so se col cinese capisci più te stesso. No, no, col cinese, con questo discorso delle lingue col cinese non credo. No, no, col cinese magari... Magari sì. No, magari dico, pensa a come si apre il futuro del mondo. In un mondo in cui conta avere audience è più importante essere morti e popolari che vivi e invisibili. È vero? Boh, oddio, non penso sia più importante. È quello che succede molte volte. Beh, io parlo della musica, sì, non è più importante, però succede, no? Perché purtroppo negli ultimi vent'anni, anche cinquant'anni, abbiamo visto tanti cantanti, artisti morire giovani e vedere la loro fama in clan. Pensa a Lil Peep, pensa adesso a... Vabbè, non adesso, a mille esempi. Pensavo adesso anche a Nirvana, ma pensavo... Cosa succederà adesso col batterista dei Foo Fighters? Che, vabbè, non era un artista solista, perciò la band andrà avanti lo stesso. Però, ecco, sì, però, vabbè, non... Sì, non dico, c'è questa cosa, però non è che dobbiamo farla diventare... No, 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 no. Una cosa... Mi hai citato Lil Peep, mi hai fatto pensare a quel periodo in cui effettivamente SoundCloud stava diventando un'ottima piattaforma di scouting. SoundCloud. SoundCloud, ti ringrazio. No, 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 non capivo. No, praticamente c'è stato tutto questo periodo di questi rapper che venivano da lì con quel genere un po' emo-rap. Ti piaceva quella corrente? Sì, molto, ma tuttora mi piace. Cioè, c'è ancora... Quando facciamo il duetto di Confedez e Trippie Red e Tedua, ho proposto io di fare Trippie Red, che in quel momento era il mio cantante preferito. Tra l'altro la cosa incredibile è l'emo-trap che in qualche modo è collegata tantissimo ai Cure. Sì, sì. E' quel modo che è il mio gruppo preferito. Perciò è come sentire dopo vent'anni di nuovo, in qualche modo, le melodie che vengono prese da quel tipo di rock, glam, slash... Il nome giusto da dire è... Veneva a dire Sadcore, che lo chiamano anche così, ma è anche, come si dice in inglese, quando guardi Shoegazer, in inglese si chiama Shoegazer perché guardi i tuoi piedi, perché la gente suonava stando con la testa giù. C'è i Tristere Cure, Robert Smith, suonavano tristissimi guardando, non neanche guardando il pubblico. Perciò l'emo-trap e l'emo-rap prende moltissimo quelle cose lì e poi prende elementi degli anni 90, del punk ovviamente. Certo, certo. C'è il punk, del post-punk, la rivisitazione dei blink, di quelle cose lì. C'è il punk.